Il passaggio di Gennaro sul secondo palo a Cercat con poi in testa di Germetti, palla alto sulla travesse. La sua pala si dice che è finta parte di Guzman, in testa a Pellissier, alto sulla travesse. Esco al limite, gran numero, poi la ventura per Regionini, palla sul mancino, prova il tiro, sto rai. Il passaggio in mezzo, per una Pellissier, la pala rimane in aria, prova a Cercat con un gatto, Pellissier! Occasione in chievo, pala che finisce in alta. Gopi, la ria centrale va a spattare su Munari, sfrutta il rimballo, poi cambia, Gopi, Gopi, arriva a sì nel fondo, Gopi! Gopi, 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 arriva a 1-0, come il suo guarda del Gino D, la prima di Massimo Gotti! Buon base! Si abbassa improvvisamente, finisce l'arca, ma non di bene. E lo smagga, e Gastro! Ad un passo da 1-0, Gastro! La sinistra! Dentro terra è Farias, la putta davanti Farias! Non so se non ho dovuto farlo vedere, non riesce a dare un po' falsesco. Farias, lo speccato, è sfruttare, dovrebbe essere vDrive, contro i giovani, per il sinistro! La soluzione non passa, passa tante, per la opinione di metà, si salga bene. Rimoni con l'esterno per Gastro! la chiusura il storico tecnico e la pista di Gabriello ci finisce il match delle pentagoni vince il team, interrompe la serie negativa e la clona di Gordi vale per tutti i preciosissimi